amici conclusa la stagione di caccia torniamo alle letture ai libri anche se mai dovrebbero abbandonarci ma in questo periodo più che mai ci coccolano le storie e i racconti di caccia racconti che come in questo caso a volte sono davvero intramontabili parliamo questa volta di un libro che ha fatto davvero la storia muso duro memoria di un bracconiere di lui giugolini un grande poeta scrittore saggista giornalista collaborato con molte importanti riviste fra cui il messaggero la nazione diana e ha lasciato degli scritti importantissimi in molti casi tradotti in diverse lingue europee vissuto alla fine dell'ottocento e morto nel 1980 era appartenente un'antica famiglia nobile del dell'aretino vissuto dunque in toscana e proprio da questa terra e soprattutto dalla maremma arrivano le sue storie più brillanti lo stile è pienamente romantico e ci narra appunto di cacciatori e di uomini soprattutto che dividono la propria vita in preda alle passioni della caccia degli amori ciò che colpisce rapisce il lettore oltre ai contenuti è sicuramente lo stile uno stile semplice ma mai banale che è stato lasciato alla sua genuinità infatti un linguaggio gergale ugolini si nasconde dietro lo pseudonimo di giulio dal benga quindi un narratore che ci racconta dei fatti a cui ha assistito direttamente la storia di muso duro è quella di un uomo che appunto vede le sue caratteristiche tutte contenute nel suo nome un uomo che è stato reso duro dalla vita e dalla terra in cui vive quindi la maremma che conosce benissimo come conosce i suoi selvatici espertissimo cacciatore e abile appunto bracconiere memoria di un bracconiere potrebbe sembrare uno simoro quindi un qualcosa molto lontano di opposto alla caccia ma in realtà muso duro è un grande cacciatore che è costretto infatti bisogna contestualizzare il periodo storico è costretto a bracconare per necessità nel corso del libro e quindi nel corso della sua vita che ci viene narrata vediamo evolversi poi questo suo atteggiamento questa sua passione per la caccia che arriverà ad un punto in cui bracconare essere un bracconiere appunto non sarà più una un'esigenza del corpo quindi una necessità concreta ma sarà un'esigenza dell'anima non è sicuramente una vita semplice quella però altrettanto avventurosa di quest'uomo che si muove clandestinamente fra riserve di caccia e grandi territori possedimenti di signori del suo tempo che vengono puntualmente violati alla ricerca di selvaggina la sua abilità è tale che ormai tutti conoscono muso duro tant'è che spesso da predatore diventa preda si trova spesso circondato dalle guardie ricercato ma ricercato anche da molti cacciatori del suo tempo che vogliono in qualche modo affascinati dalla sua figura essere guidati a caccia perché è indiscussa la sua grande abilità di cacciatore i boschi le colline fra cinghiali brigate di starne fagiani i territori sono i tipici della maremma come tipicamente toscano è lo stile anche goliardico che spesso ricorda le novelle del boccaccio una terra senza dubbio aspra che rendeva la vita dura difficile spesso la costringeva a semplice sopravvivenza per gran parte della popolazione non a tutti perché erano epoche di grandi differenze sociali e dove alcuni vivevano nel lusso mentre altri erano addirittura costretti a lasciare il proprio paese per raggiungere e emigrare in terre lontane per poter sopravvivere è la sorte che toccherà anche a muso duro che dovrà abbandonare immaginate la sofferenza di un cacciatore così radicato ai propri territori e alle sue tradizioni dovrà abbandonare la sua terra per lavorare in america gli spazi immensi la ricchezza di selvatici dell'america potrebbero sembrare una grande opportunità per un cacciatore ma non per un cacciatore come lui come muso duro abituato ad una sfida costante ed estrema con i selvatici del suo territorio vi leggo infatti quali sono le poche semplici parole che usa muso duro per descriverci la sua caccia in america in america era pesa la terra peso il cielo peso il lavoro nemmeno la caccia ma appariva leggera con tutta quella ricchezza senza valore smisi anche d'andarci quella pianura sempre uguale che si toccava col cielo mi levava ogni volontà di cammino a volte mi sentivo come briaco e mi pigliava la voglia delle mie colline dove ogni passo ci si affaccia e si vede una cosa nuova me ne venni dopo due anni io quindi anticipato che muso duro tornerà tornerà alle sue terre e ai suoi selvatici a cui non sa rinunciare come ogni vero cacciatore un cacciatore che è stato definito un bracconiere durante tutto il corso della sua vita ma che in realtà non ha mai accettato soltanto quelle che erano le leggi degli uomini che sentiva profondamente ingiuste e forse nel suo caso lo erano davvero un cacciatore che però ha sempre obbedito a una legge forse più alta una legge morale che sentiva dentro di sé era la legge del rispetto per la natura e i suoi selvatici buona lettura grazie 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 grazie